Crisi produttiva, lavoro, sanità, ambiente, ruolo dei partiti rispetto alle decisioni assunte più o meno monocraticamente dal Presidente della Regione, Paolo Frattura. Sono stati questi alcuni dei temi discussi al tavolo della coalizione di centrosinistra convocato dai partiti minori che, evidentemente, si sono sentiti emarginati dalle scelte fatte nell'esecutivo. In buona sostanza è cominciata l'ennesima verifica politica che, a dire il vero, dura da oltre un anno e che non trova ancora adeguate soluzioni. Per alcuni aspetti, la recente intesa frattura ruta sui nove punti programmatici, benché condivisa da tutti, ha accentuato le fibrillazioni nei partiti della coalizione PD compreso. Nel corso dell'ultimo vertice, da più parti, è stato anche sollevato il dubbio sulla opportunità di mantenere in piedi l'alleanza con Rialza di Molise, che alle ultime regionali contribuì alla vittoria con oltre 15.000 voti ed elesse a Palazzo Moffa Vincenzo Cotugno. Il responsabile di Rialza di Molise, Riccardo Tamburro, presente alla riunione, ha ribadito fedeltà al centro-sinistra, ma, secondo i bene informati, ciò non sarebbe bastato a fugare i dubbi sulla opportunità di mantenere in piedi l'alleanza. Lo stesso governatore Frattura avrebbe mostrato qualche perplessità a confermare l'atipico accordo, che indirettamente coinvolge anche Forza Italia. Nella riunione con i segretari di partito, è stato deciso di approfondire tutti i temi della verifica politica, compreso questo. Se ne riparlerà il prossimo 12 dicembre, data già fissata per l'ennesimo incontro tra i partiti del centro-sinistra, i parlamentari della coalizione e il governatore Paolo Frattura.